E la colazione in Sicilia noi la facciamo così. Guardate, oggi una colazione diversa dei buonissimi cannoli siciliani con una ricotta eccellente, eccellente, con una scialda fragrante che veramente già guardando queste immagini viene già l'acquolina in bocca quindi non vediamo l'ora di degustare queste bontà tutte siciliane, anche la crostata con crema di pistacchio e cioccolato, che esplosione di gusto, che meraviglia. Ma sono tante altre anche le eccellenze che è possibile degustare come i biscotti artigianali e tanti buonissimi dolci. Scriveteci quale di questi è il vostro preferito, scriveteci quale di questi fa il caso vostro, è più apprezzato dei vostri palati. Mentre non mancano i biscotti, biscotti al cioccolato, al pistacchio, crostate. Guardate, ce n'è per tutti i gusti. Fateci sapere quindi il vostro preferito, quale di questi, guardando le immagini, vi incuriosisce di più, amate di più, apprezzate di più. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.